Questo, come probabilmente ho detto tutte le altre volte che ci siamo visti, è un municipio molto grande, più grande di Milano ed è molto eterogeneo al suo interno, per cui anche parlando di sicurezza ci sono situazioni diverse a seconda dei quadranti. La domanda però e la percezione delle persone, la domanda che arriva da tutte le persone è di elementi diversi che poi compongono la sicurezza. Le persone chiedono decoro, chiedono la pulizia, chiedono il presidio, le luci. La domanda di sicurezza in realtà si misura con tante richieste. Noi abbiamo scelto per esempio di rispondere positivamente una domanda impegnativa che era quella, impegnativa dal punto di vista economico, che era quella della videoserviglianza in molti quartieri del territorio per rispondere a episodi di piccola criminalità piuttosto che di scorribande notturne di gare tra moto e auto che in qualche parte del municipio penso all'euro si realizzano, piuttosto che ai furti di pezzi pregiati delle macchine che caratterizzano alcuni quartieri, piuttosto che quindi a episodi di movida, anche questo in alcune zone, piazza Crepas, mezzo cammino, piuttosto che la piazza di Giuliano e Dalmadi. Quindi diciamo la domanda di sicurezza è una domanda complessa perché riguarda le situazioni del Laurentino in cui qualche recentemente la polizia che io ho voluto ringraziare fortemente ha costruito una retata ed era relativa allo spaccio che rispetto al tempo precedente in cui era molto visibile per l'estate e oggi è meno visibile perché viene nelle case. Quindi in quel settore, in quel quadrante io ho ringraziato molto la polizia e contemporaneamente dicendo queste cose aggiungo anche che in realtà questo è un territorio assolutamente che non si distingue per l'insicurezza. È un territorio in cui la situazione, la vivibilità è alta, dicevo con i problemi che vi dicevo prima, io stavo dicendo come la nostra scelta di utilizzare 300 mila euro del bilancio, voi sapete che il municipio ha un bilancio derivato, quindi è una richiesta che viene fatta al Campidoglio che ha risposto positivamente in questo caso, di videoserveglianza è uno strumento che aiuta a presidiare il territorio, a renderlo più sicuro, anche dal punto di vista della deterrenza diciamo, perché la presenza della videoserveglianza aiuta. Quindi ho elencato gli elementi caratteristici della voce di sicurezza del territorio, vi dicevo quindi non è un territorio particolarmente insicuro, ma ci sono gli episodi che vi dicevo e poi ci sono stati fatti importanti, penso a Mezzocammino, quando l'incendio nella notte di Capodanno del 31 dicembre 2023 ha determinato il crollo della piazza e lì tutto questo è stato determinato da lo smaltimento criminale di rifiuti che era stato accumulato nei garage e succede anche in altri posti del municipio, sempre a Mezzocammino non solo, in cui vengono comprati all'asta appartamenti per stipare al loro interno rifiuti in modo illegale, così come uno dei temi della criminalità e di irregolarità è lo sversamento irregolare di rifiuti che arrivano da altri territori limitofi a questo territorio, anche da altri paesi in cui vengono irregolarmente versati rifiuti. Quindi questo per rispondere in modo preciso alla vostra domanda. Non è un territorio che si distingue per essere insicuro, le domande di sicurezza ci sono, le domande di sicurezza vanno lette per come vengono presentate, decoro, pulizia, tranquillità, rigenerazione urbana, quindi sono tante le facce. Noi abbiamo scelto di destinare risorse alla videosorveglianza per aiutare la percezione di sicurezza e anche concretamente e abbiamo scelto di fare denunce forti, per esempio a Mezzocammino abbiamo fatto una denuncia fortissima della criminalità che abbiamo trovato in quell'occasione, siamo vicini alle forze dell'ordine che aiutano a presidere il territorio e tutto questo compone insieme alla nostra scelta di rigenerare spazi pubblici aperti e chiusi per offrirli come luoghi di relazioni sociali e di comunità, tutto questo contribuisce a rendere più sicuro un territorio che non è, ripeto, all'apice delle croniche per essere insicuro, anche se ci sono sicuramente elementi da presidiane. Ecco, Roma è attesa ormai a fine anno, fine 2024, si aprirà la Porta Santa e ci sarà il giubileo, come vi state preparando, a che punto sono anche gli interventi, i lavori, i cantieri, come questo municipio si sta preparando a questo importante appuntamento? Alla fine è arrivato, è arrivato il giubileo e poi alla fine è arrivato, siamo alla vigilia, intanto abbiamo, come tutti i municipi, abbiamo ricevuto uno stanziamento di 3 milioni per le strade per lavorare sulle strade ammalorate, è stata una destinazione di risorse che sono arrivate in ugual misura dal Campidoglio a tutti i municipi, quindi noi abbiamo destinato i 3 milioni a rifare, mettere a posto il manto stradale delle strade che abbiamo scelto tra quelle che avevano bisogno di maggior manutenzione. In altrettanto modo dal Campidoglio è arrivato un milione per i sagrati delle chiese e marciapiedi, per i sagrati delle chiese, scusate, e poi per i sagrati delle chiese. Quindi la risposta alla domanda è che c'è un coordinamento cittadino degli interventi del giubileo con delle risorse destinate ai municipi con destinazioni precise, strade, marciapiedi, sagrati delle chiese. Poi a ogni municipio è stato destinato un milione che il municipio poteva scegliere liberamente come investire. Naturalmente il vincolo di quella destinazione era il vincolo di scegliere un luogo in cui quell'investimento lasciasse un segno, il segno giubilare. Noi abbiamo scelto di investire questo milione a Trigoria e di realizzare a Trigoria una piazza. Trigoria è un luogo in cui c'è l'esigenza a nostro avviso di un vero spazio di comunità, un luogo pubblico, non quindi privato, delle singole persone. Non ci sono molti luoghi pubblici in cui le persone possono stare insieme, al di là cento aziani, piuttosto che della scuola. Però non c'è uno spazio di socialità intergenerazionale in cui i giovani possono trovarsi e magari avere il wifi da utilizzare, piuttosto che il parco, piuttosto che il luogo in cui scambiare due chiacchiere, piuttosto che organizzare delle feste. Noi abbiamo scelto Trigoria per investire un milione e abbiamo scelto di fare la piazza di Trigoria come cuore di quella comunità. Ecco, parlando di comunità, parlando nello specifico anche del quartiere Euro, che poi è il cuore pulsante o comunque tra le zone del municipio più importanti, il rapporto con poi l'EUR-SPA, che poi è la realtà che lì c'è. Qual è il rapporto? Soprattutto c'è un lavoro anche in sinergia per i cittadini, per il quartiere. Sì, intanto l'ente Euro in questo momento sta attraversando una fase di cambiamento dei suoi organi. Il presidente è cambiato da pochissimo, ha assunto le deleghe, credo da maggio, nel pieno delle deleghe, Enrico Casbarra, il nuovo presidente, e da qualche giorno, il 31 maggio, si è dimessa e quindi verrà sostituita l'amministratrice delegata, l'ingegnere Angela Benia Cossello, che verrà sostituita, non sappiamo ancora da chi, perché l'ente Euro è un'ente partecipata al 90% dal Ministero Economico e Finanziare, dal MEF e al 10% dal Comune di Roma. Quindi l'ente Euro è un soggetto di grandissima rilevanza per l'Euro, perché è la proprietà dell'Euro, proprietà del patrimonio dell'Euro. Parlo di cose importanti, parlo al Palazzo dei Congressi, parlo della nuvola, parlo di luoghi storici come il Caffè Palombini, piuttosto che Giolitti, piuttosto che la Piscina delle Rose. I luoghi, grandi luoghi, importanti monumenti di cui la proprietà è dell'Euro. Quindi è evidente l'importanza di questo ruolo. Io auspico che l'ente Euro abbia nella nuova sua composizione, visto che vi dicevo è appena modificato il suo assetto, nella sua nuova definizione abbia l'occhio vigile sul proprio ruolo, che non è quello di un'agenzia immobiliare, ma è un ruolo importante, è un ruolo pubblico ed è molto importante per il municipio avere un'interlocuzione positiva con l'ente Euro, perché è quella necessaria per fare dell'Euro quello che l'Euro ha come vocazione. L'Euro è la città, è Roma contemporanea, è l'ingresso a Roma e da Roma contemporanea. Ha bisogno di essere guardato con questo occhio per essere più attrattivo, per esaltare la sua vocazione turistica. Roma ha bisogno di avere un turismo che non è soltanto concentrato nel suo cosiddetto centro storico, ma che possa muoversi liberamente nelle tante bellezze della città. Per fare tutte queste cose c'è bisogno di una visione lunga e di una grande asse tra Roma capitale e il municipio che qui lo rappresenta e l'ente Euro. L'ente Euro ha svolto fino adesso una funzione molto importante nella cura del decoro dell'Euro, ma dal primo aprile c'è stata la rescissione della convenzione con Roma capitale sulla tenuta del verde, della manutenzione del verde. Naturalmente per i cittadini non è importante chi fa che cosa, è importante però vedere come il verde che fino al primo aprile era curato, parliamo di ettari, di verde, improvvisamente non ne più e quindi noi auspichiamo che ci sia una nuova convenzione tra Roma capitale e ente Euro per la manutenzione del verde. Per intanto abbiamo deciso noi di destinare 300 mila Euro e da questa settimana è il municipio che sta prendendo cura del verde, subentrando in una funzione in attesa e non prevista, quindi noi auspichiamo che si risolva, si definiscono una nuova convenzione e per intanto siccome siamo convinti che per i cittadini e per noi stessi la cosa importante è fare le cose, ci siamo proposti noi per fare una cosa che non era prevista che facessimo naturalmente. Quindi sì, è molto importante l'apporto con ente Euro e bisogna, noi abbiamo fatto a marzo 2023, abbiamo fatto un punto in comune insieme noi e l'Euro sullo sviluppo del territorio, chiamando tutti i soggetti che a bario titolo nel territorio e nell'Euro hanno un ruolo, soggetti pubblici, soggetti privati, le imprese, le organizzazioni sindacali, piuttosto che i soggetti che promuovono cultura e arte, quelli che promuovono turismo, insomma tutti, perché siamo convinti che quello che deve ispirarci è la scelta di fare dell'Euro la Roma contemporanea, perché lo è, ma bisogna investirci di testa oltre che di risorse. Tra poco, a ottobre 2024, sarà completata la parte esterna delle Torri Ligini, Beirut, no? Si chiamate, se si sono chiamate. Entro un anno e mezzo o due verrà completata anche la parte interna, arriveranno quasi più di 3.000 persone, arriverà a Fervie dello Stato con più di 3.000 dipendenti lì dentro, Torri Ligini. È stato già fatto da ente Euro il contratto con Bulgari, che andrà a replicare il modello Fendi, diciamo, il Palazzo Civitale del Lavoro, nei locali dove prima era ospitata l'assessorato d'urbanistica, quindi dietro Palombini, insomma, lì verrà Bulgari. Tra qualche giorno ci saranno 4 giorni di alta moda all'Eur, promossa dal municipio insieme ad Alta Roma. L'Eur ha la capacità di essere attrattiva se questa capacità è affrontata con visione e spirito, diciamo, lo spirito di Roma capitale, quindi è molto importante che tutte queste cose si possono fare se c'è una regia comune.